Grazie a tutti, ci troviamo a Vergiate quest'oggi a provare il Gravity Scooter modello Marshing che praticamente è simile a un monopattino dedicato all'uso pre-ride, un'alternativa a una bici da downhill, questo chiamiamo una specie di monopattino che in realtà si chiama scooter, possiamo notare che monta un freno idraulico all'anteriore, una forcella ammortizzata con possibilità di regolazione del precarico a molla, i diametri di ruote sono differenti per poter bilanciare il baricentro e avere una guida più precisa possibile, la componentistica è tutta di qualità, monta delle coperture Schwalbe, un prodotto veramente qualitativo che adesso andremo a provare lungo i nostri percorsi. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti